Allora io voglio partire dal finale, poi ci addentriamo nella partita. Sandro ha chiamato alcuni di voi ad andare sotto la curva, c'eri anche tu, c'era Bill Long, insomma vi siete sentiti di andare comunque a ringraziare i tifosi? Sicuramente, noi i tifosi li ringraziamo sempre perché ci hanno sempre sostenuto, quindi era doveroso andare lì sotto alla curva a salutarli. C'è tanta rabbia, al di là insomma di un benevento che ha commesso il solito errore, parlo del primo gol del Cagliari, le tante occasioni sciupate a dispetto di una squadra che ha creato tantissimo, che ha giocato benissimo, ma ancora episodi che macchiano le partite. Io non arrivo neanche al rigore che magari c'era, attenzione, ma che chiaramente il VAR è a supporto sempre e a seconda di come gira all'arbitro, ma mi riferisco anche al giallo di Castan, insomma. Una vera grazia per il Cagliari l'ha subito colta Lopez che subito dopo l'ha sostituito. Beh, ti ripeto, le partite purtroppo finiscono quando l'arbitro fischia e fino al novantesimo avevamo la partita in pugno e poi non sfruttando bene le nostre occasioni ti ritrovi a perdere 2-1. Non vedo che il Cagliari abbia fatto chissà quanti tiri o che partita. Fino al novantesimo la partita l'avevamo in mano noi e per qualche disattenzione alla fine, negli ultimi minuti, abbiamo perso la partita. Poi riguardo agli arbitri, il VAR, queste cose non ti saprò dire, sono cose che non riguardano me. Ascolta, ad un certo punto ha pesato la gara di andata contro il Cagliari il timore che potesse arrivare il gol in qualsiasi momento? Beh, il timore non ti dico, però quella cosa di portare a tutti i costi il risultato a casa che per noi è importantissimo, ci siamo ritrovati sotto con due disattenzioni. Non ti dico la seconda, è che la seconda è un intervento e ci può stare. La prima dobbiamo stare attenti noi, la colpa è solo nostra. Ti dico che la voglia matta di vincere, da come ho visto anche dal campo, fino al novantesimo. Alla fine abbiamo concesso delle piccole disattenzioni nostre e ci hanno portato a casa i tre punti che, come dicevo prima, abbiamo fatto una partita strepitosa. Non mi ricordo tutte queste occasioni che hanno avuto loro e purtroppo quando hai delle occasioni, più di una e non finalizzi bene, ti ritrovi a perdere la partita che alla fine l'hai fatta tu tutti i 90 minuti. Cioè, mi fa rabbia sì, mi fa rabbia. Purtroppo non so cosa dirti su questa cosa, però ti ripeto, io faccio complimenti alla squadra fino al novantesimo perché abbiamo corso tutti, sofferti uno per l'altro. Quella piccola disattenzione sul primo gol, il secondo gol non ti dico perché è stata una scivolata e mi fa tanta rabbia perché è il frutto di una settimana che lavoriamo tutti bene, sacrifici ogni giorno e poi ti ritrovi gli ultimi cinque minuti a perdere la partita e questo mi fa tanta rabbia. Sono pienamente d'accordo con te, guarda, purtroppo questo o ce l'hai o non ce l'hai. Ci è mancata la cattiveria, ci è mancata la furbizia che per noi devono essere importantissime per portare a casa il risultato. Purtroppo questo al novantesimo non l'abbiamo fatto e ti ritrovi che vai a casa con zero punti. Mi fa rabbia tanto vedere che il Cagliari con tutto il rispetto ha quei punti e devo vedere il Benevento con solo dieci punti e questo mi fa tanta rabbia. Beh, ti dico maledetta, noi che abbiamo sbagliato, maledetto noi, però ti dico che fino al novantesimo abbiamo fatto la partita, un bel calcio perché abbiamo fatto un bel calcio e ti ritrovi a fare delle occasioni non finalizzate bene e ti ritrovi che perdi 2-1 la partita. Poi riguardo dal VAR non ti dico, oggi il controllo di noi è stata messa, a Milano con l'Inter non è stata messa. Sono cose che non so dirti e non so risponderti. Penso che forse perché siamo il Benevento devono avere rispetto anche per il Benevento.